Ciao a tutti, oggi ragazzi mi sono comprato questo, che è tipo una cosa in cui puoi fare i video e i selfie. In questa cosa puoi fare i video e i selfie, vi dico subito come funziona. Prendete il telefono e lo mettete qui, tipo alzate questo così, alzate questo e ci mettete il telefono. Ci potete mettere qualsiasi telefono, basta che non è quello piccolo là. Dopo aver messo il telefono qui, dovete mettere questo dove mettete voi i audio. Sto facendo i video motori, non mi scassate. Ok, problema risolto. Stavamo dicendo che questo lo dovete mettere, wow, prenditi! E questo lo dovete mettere dove mettete voi le cuffie, dove mettete gli auricolari. Dopo aver messo il telefono qua e questo dove mettete gli auricolari, se dovete fare il selfie e la foto, cliccate questo e vi farò la foto. E se dovete fare il video, dovete cliccate questo e il video già si fa, va bene? Questo, questo. Ok. Comunque ho il completino dell'adepa in cui vado al calcio. Ah, vi devo fare vedere il completino dell'adepa. Vabbè, ora vi do, in un altro video, vi farò vedere la maglietta che già voi avete visto, i pantaloncini e le scarpe e i calcettoni. Ok. E niente. Questo lo useremo quando, tipo, dobbiamo andare fuori, qua giù, e mi porto questo coso, così facciamo i video, facciamo i video. Bello. Tipo, dobbiamo andare, devo andare in un tra, in un teatro, qua fuori, qua, e mi porto questa cosa, la metto più in alto, più in alto che al posto, e faccio il video e vi faccio vedere tutte le cose in alto con questa cosa. Va bene? Ehm... beh. Eh, tutto questo fatto non lo so. E niente. Questa è la... questa cosa. Ti amo. L'ho scelta bianca perché a me mi piace il bianco. Il mio colore fortunato è il bianco. E niente. E niente. E niente. E niente. E niente. Lasciate il video. Lasciate il video con 30 iscritti. E se mi piace il video. E niente. Ci vediamo al prossimo video. Bella. Ciao. Ciao.